e ben a tutti ragazzi benvenuti in questo video, sono Crash Game e oggi siamo su Titanfall la beta di Titanfall che è un fps simile al Call of Duty secondo me è un gioco molto molto bello che adesso vi farò vedere sicuramente avete visto anche da molti youtuber che l'hanno fatto e spero di comprarmelo perchè questo gioco secondo te merita spero spero che a voi piaccia e che voliate altri video perchè ci vorrei fare molti video su questo gioco non solo a beta ma quando lo converrò a farci una miniserie aspettiamo tempo che carica intanto mi scuso per la mia assenza intanto non so cosa utilizzare, vedo un rifleman un tank un assault salve wow che figata mi dispiace, mi dispiace per tutto il tempo che ho passato senza fare video intanto io ho sbagliato ragazzi sto facendo dei file assurdi comunque questo gioco è una gran figata la mia prima volta che ci sto giocando intanto la mia connessione è una merda quindi scusate perchè proprio non so perchè ma sta andando intanto c'è un nemico facciamo una granata a casa di canata oddio perfetto mi dispiace per tutto il tempo ok provo un ucciso per tutto il tempo che mi sono preso intanto devo diminuire un po' il volume ok questi dovrebbero andare bene oddio sti cassi tasti mi dispiace per tutto il tempo che mi sono preso ma purtroppo ho avuto tanti tanti problemi che non sto qui a dirvi ma vi dirò in un video che spero spero di spero di fare il proprio pesto anche di carli carlo vero domani fanculo mi è chiuso da dire oddio questo gioco è una figata immensa lo sto già amando la mia prima volta che ci sto giocando mi è scaricato da pochissimo la beta fanculo però non sto facendo tanto male dai eeehm pochissimo non posso adesso una figata c'è non ho visto titoli del genere quindi è un'innovazione ehm mi piace ma questi giochi così poi mi vede è un'attima specie di oddio figli di buttana saltarino ehm ehm specie di fps arena tanto abbiamo il titan fall titan scusate blitz di merda ok abbiamo il titan pronto ma io oddio ho fatto un fail di merda comunque io che me è il titan fa un punto scassare ehm ehm ehi perchè non mi spavano il titan E' B E' V scusate No Vabbè non so perché Oddio Ok Non so come cazzo si fa Perché sbagliato Allora perché sono piaciuto con un cod Che per spavolare è def E quindi io Faccio F Ma quello non so se è amico o è amico Cioè io credo sia amico Almeno spero Comunque Oddio Cioè se ne sento i tipo migliaia di titanfall Vorrei chiamare titanfall Andiamo prendiamo l'arma anti-titan Le spariamo contro Sono finiti titanfall Sì 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 certo Hai ragione tu Dove adesso sto facendo video 5 minuti Se posso dire 5 minuti Comunque Quello che dovevo dire l'ho detto Attenzione che c'è un titan Quindi Vai vai Spara Vai 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 Scapa 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 Alcuni Alcuni Sembrano dei bot Perché sono troppo scarsi Alcuni compagni No Lui è una persona vera Comunque stiamo vengendo Sembra Sì Credo stiamo vengendo La mia connessione Big power Sì Come no Questa giorni Sistemerà La mia connessione Perché metterò il modem L'internation titan E noi Vai Hai visto? Il mio titan è pronto Oddio Secondo non volevo capistare E' uno di sotto Ah ecco E' un titan Sì Bellissimo Perfetto Abbiamo Un titan La distruggiamo Tutto ora Titan Contro Titan Attenzione Servadec Oddio Connessione del merda Oddio Oddio Sono dovuto appuntare Oddio Se perdo solo Per la prima connessione Di merda Mi incazzo Ok Sono uscito Per sicurezza Perché stavo scoppiando In mondo Oh Questo è un nemico Oddio Il collo Tipo E' morto Sono salito di livello Bello Bello Quello è un titan Nemico Ma distruggilo Oddio Che gioco Attenzione Dietro Ehi Fiontate Indietro Ehi Fiontate Andietro Eh È come un borso Victor Quindi credo Che forse abbiamo vinto Ah sì Sono gli errori Ma sono le punti Abbiamo dominato Questa partita Abbiamo scassato il culo Vediamo io cosa ho fatto ho fatto schifo ho fatto 4 o 3 ah ecco sono i minion sono i attenzione puoi non tirare uno di merda ok sta allargando uno schifo ma comunque la faccio per voi perchè mi devo scusare tantissimo perchè non aver caricato video per più di due mesi sempre più di due mesi sicuro si è bloccato tutto abbiamo vinto perfetto sono passati 9 minuti adesso quindi io credo che questa partita può bastare mi dispiace dal mio pink fa schifo perfetto bellissimo mi dispiace per amessenza farò un video per spiegarvi il perchè spero questo video vi sia piaciuto se si riuscire ad un bel like un bel commento qui sotto se volete altri video di titanfall e se mi consigliate di acquistarlo anzi ce li compro lo stesso lo stesso quindi mi ha sbatto il cazzo ok noi ci vediamo al prossimo video bella ragazzi grazie a tutti grazie a tutti